Let's get up! What do you want? I can breathe! Please, leave my dick! I can breathe here! Bro, get up, get in the car! George Floyd, morto a Minneapolis il 25 maggio 2020. La scena viene ripresa da un passante con il suo cellulare. Un poliziotto bianco, che preme il ginocchio sul collo di Floyd per 8-9 minuti, mentre egli dice ripetutamente non riesca a respirare, per favore, non riesca a respirare. Poco dopo, l'uomo, sreata ancora faccia in giù e con le braccia dietro la schiena in manette, perde coscienza mentre il poliziotto continua a premere il ginocchio sul suo collo. La sua morte viene registrata al Hennepin Country Medical Center. Jacob Blake, ferito gravemente il 24 agosto 2020. Sette colpi di pistola vengono sparati contro di lui, disarmato innocuo da un poliziotto bianco. mentre egli cerca di raggiungere la sua auto, dove lo aspettano i tre figli piccoli. Blake non muore, ma rimane paralizzato dalla vita in giù e nonostante le gravi condizioni, anche in ospedale deve attendere di essere discolpato da ogni imputazione, ammanettato alle sbarre del letto. Due nomi come i tanti altri, due storie di afroamericani, vittime del sospetto e della violenza della polizia americana nel solo 2020. Due storie però, che rimbalzano sui media e scatenano un'ondata di indignazione internazionale che prende il nome di Black Lives Matter. Letteralmente, le vite dei neri contano. Questo è un movimento attivista, originato nella comunità afroamericana, attivo negli Stati Uniti già dal 2013. Allora, l'urgenza era quella di denunciare l'assoluzione di George Zimmerman, poliziotto colpevole di aver assassinato un ragazzo nero di 17 anni. Nonostante le lotte contro il razzismo degli anni 60 e 70, nonostante il doppio mandato di un presidente americano di colore, questioni come profilazione razziale, brutalità della polizia e disuguaglianza nel sistema giuridico degli Stati Uniti, permangono. E la storia puntualmente continua a ripetersi. E tutto questo ci appare molto lontano da noi. Poi però, apriamo il giornale del 5 settembre 2020, un Corriere della Sera o una Repubblica qualsiasi, e troviamo una notizia che ci farà brevidire. A Colleferro, in provincia di Roma, è stato ucciso Willy Monteiro Duarte, 21 anni di origini capoverdiane. Colpevole di essere intervenuti in difesa di un amico per sedare gli animi durante una rissa fuori dal locale, preso a pugni da un gruppo di quattro ragazzi fino alla morte. L'avvenimento non viene in realtà classificato dai media come razzismo. Forse, nella considerazione generale collettiva dei giorni nostri, non si può escludere che le dinamiche del branco siano scattate contro una persona casualmente di colore. Poi però, guardiamo i dati del libro bianco dell'Associazione Lunaria, e scopriamo che da tempo l'Italia si dimostra tutt'altro che accogliente. in 18 anni sono stati registrati 7.426 episodi di ordinario razzismo. E allora, non importa più se la morte di Willy sia stata o meno causata da odio razziale, perché la vera questione è che conta ancora nel 2020 di che color hai la pelle e da dove vieni, purtroppo. Per capire meglio il fenomeno del razzismo, dobbiamo conoscere le questioni che hanno creato un divario così ampio. In primo luogo, la schiavitù. La schiavitù come tale e non come commercio organizzato, che esisteva già nel continente africano e in altre parti del mondo. Gli schiavi erano innanzitutto prigionieri, catturati durante le guerre tra gli stessi africani. Questi venivano rimossi dalle loro società di origine e venivano usati per lavoro agricolo e scambiati come dei beni e difficilmente potevano sfuggire al marchio della schiavitù. Nonostante ciò, nei grandi regni d'Africa occidentale, col tempo, i discendenti di schiavi e gli schiavi stessi potevano diventare membri a tutti gli effetti. La loro importanza era dovuta al fatto che costituivano delle risorse per la produzione di merci da esportare e perciò erano un importante sostegno allo sviluppo del commercio. Quando gli schiavisti europei arrivavano sulle coste dell'Africa subsahariana, inizialmente catturavano gli schiavi in prima persona, poi si resero conto che il sistema era poco redditizio e inefficace e che potevano invece sfruttare le guerre intestine, rivolgendosi direttamente ai capi africani. Questo traffico commerciale interessò tre continenti, da qui la definizione di triangolare. Le navi iniziavano il loro viaggio partendo dall'Europa, dalla Gran Bretagna e dalla Francia principalmente. Qui le navi del tenegriere venivano caricate di merci. Salpavano poi in direzione degli empori che erano stati costruiti lungo le coste africane e una volta prodati sulle coste africane venivano comprati e caricati gli schiavi. Da qui le navi inegriere partivano alla volta dell'America dove mettevano in vendita la preziosa merce umana scambiata con prodotti coloniali. Qui la pratica della servitù per debito si dimostrò meno conveniente della mercificazione degli schiavi e la sostituì. Dal XVII secolo venne poi riconosciuta secondo la legge la superiorità della razza bianca, il che rimosse il dilemma etico nei neoliberali americani. Gli schiavi sono degradati a subumani per asservire un bisogno funzionale sia una privazione della dignità mai vista prima. Sono allevati e selezionati come animali venduti e sfruttati come oggetti e non hanno via d'uscita. Negli anni seguiti degli storici hanno discusso parecchio sul numero di schiavi che venne coinvolto in questo brutale commercio. Secondo il premio Nobel Tony Morrison il numero di morti durante la sola tratta navale fu di 60 milioni. Per riuscire a comprendere a pieno il libro e le tematiche che affronta è importante tenere a mente alcune informazioni sulla vita dell'autrice. Non dimenticare chi sei è il romanzo di debutto di Yagi Asi 31 anni nata a Mapong in Ghana ed immigrata a soli due anni in Ohio con la sua famiglia. In una delle prime interviste che ha rilasciato ha rivelato come l'evento che l'ha spinta ad iniziare a scrivere il romanzo sia stato un tour del castello di Cape Coast sulla costa di Ghana che è tra l'altro una delle immettazioni principali del libro. Durante questo tour sponsorizzato dalla sua università proprio per spingerla ad iniziare a scrivere ha scoperto con sorpresa che i soldati inglesi che vivevano nel castello nel Settecento e quindi regolavano il commercio di schiavi a volte sposavano donne della tribù dei fante a cui tra l'altro appartiene anche sua madre. si creava in questo modo una situazione in cui donne fante si ritrovavano a vivere in un castello nei cui sotterranei erano rinchiuse le loro stesse sorelle. Questa immagine è rimasta particolarmente impressa nella mente dell'autrice che come vedremo più tardi è partita proprio da questo nella stesura del suo romanzo. Cresciuta in uno stato con un passato fortemente razzista come l'Alabama Diage Asia ha spesso dichiarato di non sentirsi compresa fino in fondo nemmeno dalla comunità afroamericana della sua stessa città. È anche per questo che nello scrivere Non dimenticare chi sei non ha voluto dividere bianchi e neri in buoni e cattivi privilegiando piuttosto una caratterizzazione molto complessa e attenta di ogni singolo personaggio. Dopo il successo del suo romanzo di debutto pubblicato nel 2017 a cui sono stati attribuiti vari e prestigiosi riconoscimenti ha pubblicato altri due libri nel 2020 Trascending Kingdom e Fight of the Century entrambi con un argomento della lotta contro il razzismo. Non dimenticare chi sei ha riscosso un grande successo sicuramente per l'importanza dei temi trattati e come abbiamo visto per la sua attualità ma anche per la struttura del libro per il modo in cui è stato scritto per il modo in cui sono state organizzate le sue parti i suoi capitoli esso è diviso infatti in 14 capitoli semi-autonomi che procedono in parallelo questo cosa significa significa che intanto ogni capitolo se è preso singolarmente potrebbe già da sé costituire una piccola storia infatti ogni capitolo parla della storia della vita di ognuno dei protagonisti del romanzo ma resta comunque interconnesso a tutti gli altri da una sorta di collante che è costituito proprio dalla linea generazionale comune da questo grande albero genealogico che ingloba tutti i protagonisti del romanzo infatti tutti appartengono alla stessa famiglia che ha come capostipite Mame che dà la luce e i fiadesi a loro volta le capostipiti del ramo americano del ramo africano della famiglia la nostra storia inizia nel 1700 proprio all'epoca delle prime colonizzazioni inglesi sulle coste africane in particolare sulle coste ghanesi e si chiude negli anni 2000 in America diciamo quindi che oltre ad avere una struttura in parallelo come ho detto prima il testo procede analizzando entrambi i rami della famiglia e spiegando e narrando le vicende le violenze gli amori che i protagonisti vivono ha comunque una ring composition una composizione ad anello proprio perché la storia si separa nel 1700 e si ricongiunge negli anni 2000 sicuramente come ho detto prima la struttura del romanzo ha reso il romanzo incredibilmente interessante da leggere proprio perché essendo il romanzo strutturato in parallelo lungo due linee spazio-temporali se così le vogliamo chiamare separate possiamo delineare sette contenuti in 14 capitoli quindi due capitoli per ogni contenuto nei primi due c'è la perdita della libertà con la separazione delle sorelle e la separazione del ramo africano da quello americano nei capitoli 3 e 4 si parla dell'amore quello vero non l'amore dei matrimoni combinati frequenti nel libro infatti Quay si innamora dell'amico ma fallisce mentre l'amore tra Ness e Sam porta al concepimento di Kojo anche se termina con la brutale morte di Sam che viene impiccato nei capitoli 5 e 6 invece si tratta della libera scelta sul proprio destino James infatti sceglie di fingere la propria morte per tornare dalla sua amata e Kojo invece decide di restare in America e non scappare dalle nuove leggi razziali e perde tutto perde la famiglia e questo quindi potrebbe portare anche a riflessioni sulle conseguenze che la libera scelta di un individuo porta sul proprio destino i capitoli 7 e 8 invece riguardano la follia della comunità e delle leggi in generale Abena viene infatti allontanata perché è ritenuta responsabile per i raccolti scarsi in Africa mentre H è costretto ai lavori forzati per un crimine mai compiuto e quindi un po' la follia delle leggi emerge nei capitoli 9 e 10 invece si affronta la religione con cui Aqua ha un legame negativo proprio perché frequenta e vede costantemente un prete che le dice di essere qualcosa di negativo Willy invece conosce in America il suo secondo marito in una chiesa i capitoli 11 e 12 invece parlano di arrendevolezza Sonny lavora per il partito dei diritti dei neri anche se capisce che non c'è nulla da fare in una società come quella e Yoh invece è prof di storia e mira a scrivere un libro proprio che parla della storia dei neri in America i capitoli 13 e 14 sono gli ultimi sono quelli di conoscenza e ricongiungimento Marcus e Marjorie si incontrano e quindi il cerchio si chiude Marcus conosce la verità sui suoi antenati sui suoi nonni sui suoi bisnonni e dopo tutto quel tempo la famiglia si riunisce in un bentornato a casa oltre il fuoco temuto da Marjorie e nel mare temuto da Marcus tornando invece ai temi ce ne sono cinque di cui è fondamentale trattare riguardo a questo romanzo il primo è quello della famiglia intesa come una speranza di vita e un futuro migliori che sono rappresentati e garantiti dai figli infatti è proprio la discendenza il legame strutturale principale il secondo è il tema dell'eredità che è un'eredità di tipo culturale e coincide con l'identità culturale degli stessi protagonisti del ramo peccano che infatti ed è molto interessante notarlo conservano il ciondolo di pietra che Mame dà alle due figlie e appunto proprio quel ciondolo di pietra nera rappresenta la memoria della violenza la memoria della discriminazione il ricordo delle sofferenze infatti Marcus ha il terrore di ciò che non conosce più ha il terrore del mare il terrore dell'inconoscibile terzo tema la libertà preclusa se non più da violenze come accade praticamente in quasi tutti i capitoli nel libro da pregiudizi stereotipi e discriminazioni soprattutto nella parte finale nella parte più moderna diciamo e discriminazioni che sono chiaramente radicate nella società quarto tema invece è quello delle cicatrici che sono simbolo di violenza e oggetto di discriminazione ma anche di memoria e poi chiaramente l'ultimo tema è quello della disuguaglianza di genere dal punto di vista linguistico non dimenticare chi sei può essere definito come una piccola opera d'arte lo stile è infatti chiaro e scorrevole non si perde mai il filo del discorso e può indurre a leggere i capitoli tutti d'un fiato inoltre il linguaggio si caratterizza per i termini medi e raffinati disposti a creare una costruzione perfettamente armonica dove tutto combacia e non si riesce a pensare a una maniera migliore di disporre le parole ad esempio nel secondo capitolo troviamo l'inferno era il luogo del ricordo ogni bel momento veniva filtrato dall'occhio della mente finché non rovinava a terra come un mango marcito perfettamente inutile inutilmente perfetto la frase inizia con una verità dolorosa e universale esprimendola con la verità semplicità del verbo essere unito a parole come luogo e ricordo parole comuni che però riescono a trasformare il soggetto inferno in una condizione intrinseca dell'essere umano concreta e abitabile come un luogo interiore e identitaria come ricordo l'universalità del concetto viene poi riportata all'ambiente ganese in cui la storia si situa grazie alla similitudine del mango frutto africano capace di trasmettere al lettore i colori e i profumi di un cronotopo in cui la natura non è ancora minacciata dalla modernità questo mango però è marcito porta su di sé il marchio della caduta e della sofferenza il chiasmo perfettamente inutile inutilmente perfetto chiude la massima contrapponendo il passato in cui la protagonista era ancora la figlia del miglior guerriero del villaggio e come tale destinata in sposa al giovane più forte e più abile con l'inutilità del ricordo che non può né scaldarla né darle gioia in quanto ora la protagonista si trova nel fettore e nel buio del sotterraneo degli schiavisti inglesi da questo pur breve esempio si può notare come gli elementi chiave dello stile degli agiasi siano la chiarezza la cura e un'estrema libertà in quanto l'autrice mostra di non risentire l'influenza della tradizione allo stesso modo degli scrittori europei cosa possiamo dire su questo libro lo definiremo con tre aggettivi avvincente poiché tutti i capitoli sono perfettamente intrecciati tra loro a formare una storia a cui è facile affezionarsi e impossibile da dimenticare toccante poiché la storia dei protagonisti è narrata in modo approfondito e che suscitava forte emozioni nei confronti dei personaggi e del loro destino istruttivo in quanto colloca in prospettiva storica una tematica strettamente attuale il fatto di averlo commentato e discusso durante le ore di educazione civica ci ha permesso di esisciare in modo significativo tramite un vero e proprio confronto tra i metodi della letteratura di affrontare delle tematiche passate ma che sono ancora attuali abbiamo sentito la classe come un luogo di dibattito su temi importanti trapari cittadini nel pieno della formazione della loro visione del mondo queste discussioni hanno suscitato in noi un forte sentimento di gratitudine in quanto ci siamo resi conto di quanto siamo fortunati a vivere in una città e in un ambiente caratterizzati da una apertura mentale che permette all'essere umano di essere accettato e apprezzato in ogni sua diversità ma ha anche fatto crescere in noi un sentimento di preoccupazione per le sacche di razzismo che ancora resistono non distanti da noi confrontarsi con libri scritti da autori e attrici africani o afrodiscendenti è una ricchezza incredibile per questo ci sentiamo di consigliare oltre a non dimenticare chi sei altri libri altre opere recenti che saranno in grado di spalancare orizzonti anche per voi Iwan de Omotoso scrive La signora della porta accanto libro nel quale racconta la storia di due signore anziane di 80 anni Marian dalla pelle bianca e Lutensia che invece è nera e vivono in un quartiere residenziale di Cetta del Capo e superata una prima fase di odio reciproco finiscono per sostenersi a vicenda questo riprova del fatto che nonostante il fenomeno dell'apartheid sia ormai lontano gli stereotopi fanno fatica a morire La libertà possibile di Margaret Wilkerson Sexton si dipana per tre generazioni la storia di una famiglia creola benestanta a New Orleans attraverso la narrazione di tre madri che diventano nonne dagli anni 40 ai giorni nostri Inello Ocparanta nel libro La felicità è come l'acqua racchiude diversi racconti tutti ambientati in Nigeria i quali parlano di donne che fatizzano da avere figli mogli che vengono risudiati e talvolta uccise e bambini che vengono sfruttati come soldati nelle guardie civili In metà di un sole giallo di Cimamanda Ndokozzi adici si apprende la storia della guerra del Biafra attraverso la narrazione delle appassionanti vicende di personaggi che si amano si sposano si perdono cercando di difendere quello in cui credono Bernardino Evaristo Ragazza, donna, altro è un romanzo corale che affronta le difficoltà legate non solo al colore della pelle ma anche all'orientamento sessuale raccontando le vite intrecciate di dodici protagoniste etero e gay nere e di sanguinisso giovani e anziane impiegate nella finanza o in un'impresa di pulizie artiste o insegnanti matriarche di campagna o attiviste transgender un mondo meravigliosamente complesso complessamente meraviglioso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti